cestini colmi immondizia nelle aiuole e rifiuti non raccolti è la fotografia oggi della villa comunale a corso vittorio emanuele a torre del greco complice la domenica festiva e la maggiore affluenza di persone in concomitanza del carnevale ormai alle porte queste sono le condizioni in cui versa questa mattina l'area verde del centro città abitualmente frequentata da anziani e bambini una situazione sicuramente da addebitare ai soliti incivili di turno ma anche alle pecche di un servizio di pulizia e ritiro della spazzatura che spesso funziona a singhiozzo insomma niente di nuovo sotto al sole un degrado a cui i cittadini sono ormai tristemente abituati grazie a tutti